Molto simpatico, perché non ti sposi? Sto sempre qua, noi siamo già parenti, al tuo programma partecipano tante belle donne, non ti sei mai innamorato di nessuna? Per favore è un bimbo, è un bimbo, è un bambino, è un bambino, è un bambino, è un bambino, Tommaso, scusale, sei mai innamorato? Ti do un consiglio, scegli di una bella concorrente che vince tanti soldi, ma l'amore è disinteressato, è gratuità, l'amore Hai sentito mai la parola alimenti? L'amore è gratuito, c'è l'altra campana, la saggezza del padre, mio padre dice che non ti devi sposare perché le femmine spendono tutti i soldi, diciamo che fra Tommaso e il papà c'è in mezzo che uno può stare, appunto come diciamo prima con la meravigliosa Maria Laura, accontentarsi di piccole cose, mamma mia ragazzini, perché alla fine lui dice tanti auguri, dice Tommaso, ho scritto, io un po' sono d'accordo con papà, ciao Tommaso, volemo sebbene poi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti